Una proposta alla città, a tutti i pesaresi, giovani e adulti, per costruire un nuovo modello di biblioteca che raccolga le storie dei cittadini e quelle del territorio attraverso le letture. La biblioteca diffusa è un'idea improntata verso Pesaro, capitale della cultura 2024, lanciata dal consigliere comunale di Forza Italia Michele Radelli, assieme a Giorgio Tornati, ex sindaco di Pesaro e senatore della Repubblica. Vorremmo provare a valorizzare i tanti patrimoni librari, che poi sono la nostra storia, la nostra cultura, la nostra città, raccogliendoli e mettendoli a disposizione di tutti. Stiamo lavorando a delle progettualità che possano essere inclusive, che possano essere diffuse sul territorio, che raccolgano i tanti patrimoni che sono magari rinchiusi negli scantinati o nelle case e non vengono valorizzati per poterli mettere insieme, metterli in comune e poter lavorare in sinergia con la città su progetti che possano guardare al futuro. Questa è una tematica che parte da una proposta culturale, ma che ha degli aspetti politici, che ha degli aspetti amministrativi e soprattutto degli aspetti di visione verso il futuro. È un nostro contributo anche alla tematica di Pesaro, capitale della cultura e soprattutto è un modo per iniziare o per continuare un lavoro di dialogo sempre più fitto, sempre più interessante con i cittadini e con la cittadinanza. Una biblioteca diffusa che potrà avere sede dove? Appunto, il tema della diffusione è il tema della valorizzazione di luoghi che ad oggi non sono ancora magari utilizzati, quindi anche con delle collaborazioni con privati, anche valorizzando per esempio quello che è il sistema della rete delle biblioteche di quartiere, ma anche insieme alle istituzioni principali della città, delle biblioteche come la San Giovanni, l'Oliveriana, perché c'è un patrimonio importantissimo che in questo momento non è valorizzato e vorremmo valorizzarlo donandolo alla città. Rendere il più possibile i quartieri autosufficienti, è chiaro che nulla toglie al fatto che un cittadino di Pesaro sia interessato a Piazza del Popolo, però se tu hai un quartiere con il centro civico, il centro commerciale, il centro civico significa il delegato del sindaco che rilascia certificati, c'è il centro sanitario, c'è la biblioteca che non è solo deposito di libri, ma è anche un centro di iniziativa culturale, perché i bibliotecari erano operatori culturali. Ecco, questa idea è un'idea che si è perduta a strada facendo, adesso tutto avviene in Piazza del Popolo. L'idea della biblioteca di Fcusa vuol dire innanzitutto che molte biblioteche personali sono beni culturali, in tante biblioteche personali tu non trovi, cioè trovi dei libri che non trovi né alla San Giovanni né all'Oliveriana, tantomeno nelle altre biblioteche.